La dottoressa Pompeo Giovanna è il direttore sanitario dell'Animic Riabilitazione e specialista e medicina fisica e riabilitazione. Io con lei dottoressa vorrei parlare un po' delle fasi di recupero per il paziente in particolare che ha subito un ictus. Quando si parla di questa patologia è chiaro che la qualità della vita sicuramente non è delle migliori, però con una buona riabilitazione c'è la possibilità di offrire anche un maggiore controllo del proprio corpo? Sì, quello che volevo dire è che importanti in riabilitazione sono i criteri predittivi dopo un ictus. Noi in riabilitazione servono a che cosa? Servono a capire quanto deve durare la riabilitazione e quale sono le fasi finali di recupero funzionale. In genere distinguiamo fattori predittivi predisponenti, cioè preesistenti, e fattori invece emergenti. Tra i fattori preesistenti praticamente ricordiamo il sesso, l'età, patologie premorbose, importanti e precedenti ictus. Per quanto riguarda l'età si è visto che rispetto al passato non c'è più quella validità eccessiva in cui si dice che un anziano non ha tempi di recupero, perché si è visto che anche gli anziani possono recuperare sempre che non ci siano patologie importanti preesistenti o comunque uno stato di demenza. Per quanto riguarda i fattori emergenti, sono legati al tipo di lesione, alla sede, e al danno clinico che se ne ha. Per quanto riguarda, si è visto che le lesioni emorragiche, se il paziente sopravvive, recuperano prima rispetto a quelle ischemiche. È importante anche la sede, perché le lesioni corticali hanno una ripresa funzionale più veloce. Quindi è molto importante la diagnosi che viene fatta sul paziente che in qualche modo ha subito l'ictus? Sì, è importante la diagnosi e anche ci aiutano molto le tecniche di imaging, come la risonanza magnetica, che ci individuano proprio le aree che sono state lese. Successivamente noi ci troviamo quindi un paziente che, stavo dicendo che appunto per i fattori predittivi è importante anche lo stato clinico. In particolare sono fattori prognostici negativi, la presenza di coma all'esordio della patologia, se persistono disturbi vescicali come l'incontinenza o l'incontinenza fecale, una grave spasticità o comunque una grave flaccidità. Mi perdoni, noi stiamo parlando dei criteri predittivi. Sì, ecco, spieghiamo ai nostri telespettatori intanto che significa criteri predittivi. Lei lo sta dicendo, ma proprio per entrare nello specifico. I criteri predittivi ci danno proprio un'indicazione su quello che sarà lo sviluppo poi finale del paziente. Dove arriverà il paziente? Ad esempio per i tempi di guarigione, quindi abbiamo detto in base al tipo di lesioni, il paziente potrà guarire prima o meno, anche se i tempi non possono essere scanditi in modo standard. Ognuno recupera o non recupera in modo individuale. Diciamo che nel momento in cui si ha una lesione ischemica ci troviamo proprio a livello biologico alcuni gruppi cellulari che sono stati lesi in modo irreversibile, mentre invece le lesioni per i lesionali vicini vanno incontro a un edema e le lesioni ancora più vicine vengono inibite proprio da questa compressione edematosa. Quindi i tempi di recupero che in genere, diciamo, dopo un ictus, spesso i pazienti si trovano a dover sentire che ci sarà un recupero all'incirca in sei mesi, chi otto mesi, chi un anno, chi un anno e mezzo. Diciamo che al momento non c'è un'etichetta che dice il paziente recupera o non recupera all'interno di un determinato tempo. Quello che possiamo dire è che nel corso dei primi sei mesi c'è un recupero che si avrebbe anche senza la presenza del nostro intervento, un cosiddetto recupero spontaneo. Successivamente invece il recupero è legato proprio al tipo di stimolo riabilitativo che noi diamo. Noi in riabilitazione distinguiamo tre fasi che si intercorrono nell'arco di un anno. Le chiamiamo proprio fase inibitoria, fase eccitomotoria e fase invece della norma eccitabilità. Nella fase inibitoria ci troviamo proprio nelle prime settimane dopo un evento ictale, dove spesso il quadro che noi ci ritroviamo davanti è un quadro molto più grave rispetto a quella che è la lesione vera e propria. Mi perdoni, quando parliamo di queste lesioni e quindi di questa patologia, il paziente è consapevole di quello che ha avuto? C'è la forza di volontà di voler riprendere in mano la propria vita, quindi di avere un recupero fisico per la propria vita? Diciamo che nella prima fase, appunto questa fase che noi chiamiamo inibitoria o flaccida, il paziente spesso si trova in uno stato di shock midollare e anche in una fase di incapacità di capire cosa gli è successo. Il problema della voglia di fare subentra successivamente. Allora quando si sono stabilizzate le condizioni cliniche, diciamo che il cervello comincia ad avere una fase di ripresa, infatti ci troviamo intorno, entro diciamo così il sesto, l'ottavo mese e dove c'è proprio la voglia, perché il paziente vede la fase di ripresa, comincia ad esserci una motricità. L'importante è che non persista la fase di depressione, perché purtroppo spesso il paziente vedendosi in una situazione nuova di disabilità importante, ricordiamo che l'ictus è la prima causa di disabilità, non sa cosa gli è successo, non sa quanto recupererà e se potrà tornare a lavorare. Quindi lei sta dicendo che dipende molto dalla volontà della persona e sì dallo stato mentale della persona, dallo stato psicologico. È importante che il paziente abbia una buona ripresa dal punto di vista psicologico e un buon sostegno dal punto di vista familiare o comunque dei caregiver. La riabilitazione in questo aiuta, perché allora quando ci troviamo di fronte a un paziente che mostra chiari segni di depressione, viene comunque sorretto sia dal punto di vista del fisioterapista ma anche da un sostegno psicologico. Nel momento in cui vediamo che non c'è una ripresa, ci sarà l'aiuto dei farmaci grazie alla psichiatria. Qual è la seconda fase dopo questo primo step? La prima fase abbiamo detto che è quella che dura le prime settimane, la seconda è quella dell'iperecitabilità, cioè il nostro sistema nervoso mette in atto dei sistemi di recupero ed è come se ci sia proprio un turbo, mette un turbo al recupero. In questa fase, ed è quella la più importante perché dura intorno a 6-8 mesi, questa è la fase che richiede proprio una presa in carico riabilitativa e che ci sia proprio uno stimolo il più ampio possibile del cervello e delle funzioni motorie. Qui in questa fase il paziente abbiamo detto che comincia l'accenno al ripristino motorio, alla motricità, per cui lui partecipa e noi diciamo così diamo il nostro aiuto. In questa fase è necessario quindi una riabilitazione che sia in qualche modo concentrata sul recupero fisico o anche sul recupero mentale? Allora, questa è una bella diatriba, in quanto spesso la riabilitazione, diciamo così, fino a oggi si dedica al recupero motore, a quello che è il recupero del cammino, a quella che è la motricità dell'arto superiore, spesso dimenticando quella che è la riabilitazione cognitiva. Però la cosa importante, e questo anche le ultime evidenze scientifiche ci dicono, è quella di integrare le due cose e stimolare molto il cervello, perché è da lì che parte tutto l'impulso per la motricità. Quindi se noi ce lo dimentichiamo, avremo quello che viene chiamato un recupero abberrante, con formazione di spasticità, quindi il famoso cammino paretico del paziente, un arto superiore che fa i conti con una triplice flessione, una mano che non funziona. Il problema del cognitivo è molto specifico, per cui i centri si stanno organizzando verso questa via, anche se al momento il personale che se ne occupa non è tanto come numero, non è molto grande. Però anche su questo ci si lavora, sperando che miglioriamo. Diciamo quindi che il paziente quando arriva qui al centro ha già una diagnosi sicura, ha superato un po' la prima fase, deve affrontare appunto quello del recupero della motricità, del recupero dell'arto superiore, insomma. Ecco, in tutto questo, quali sono le prospettive future per il paziente? Io dico sempre che quando arrivano da noi partiamo dal momento in cui sono arrivati, quindi noi prendiamo Paolo dal momento in cui ci è arrivato, tenendo conto che quello che si è fatto prima ci poteva dare meno, diciamo così, danni secondari. Noi comunque stimoliamo, abbiamo ottenuto diversi risultati anche dopo i sei mesi, anche perché dopo i sei mesi il sistema nervoso gode comunque di una plasticità. Per cui anche dopo un anno, anche dopo sette anni, anche dopo dieci anni si sono viste modifiche su quella che è la qualità di vita del paziente, perché successivamente il paziente si adatta in questa nuova situazione, vive la disabilità con un'altra maturità. Per cui diciamo che anche quei piccoli passi avanti per il paziente servono, soprattutto in ambiente domestico, è anche uscire fuori casa, cominciare a frequentare il bar sotto casa, gli amici che aveva perso. Quindi noi siamo, diciamo così, l'ultimo tassello della riabilitazione. Ci riteniamo fortunati quando ci arrivano tra i sei mesi e gli otto mesi, spesso ci arrivano anche dopo. Però la nostra riabilitazione giustamente arriva in un momento in cui il paziente è più recettivo, quindi comunque si vedono bei risultati su quella che è la qualità del cammino. L'arto superiore è un po' più delicato. Noi comunque abbiamo a disposizione sistemi robotizzati, ci stiamo specializzando sulla riabilitazione anche della mano, per cui tentiamo di dare il massimo. Purtroppo dipende sempre non solo dal nostro stimolo, ma anche da un fattore biologico e il tipo di lesione che ha avuto. Allora, lei faceva prima riferimento al coma, no? I pazienti che sono stati in coma hanno una ripresa molto più lenta nel momento in cui si svegliano e sono in grado di capire un po' la loro sofferenza e quella che è la loro patologia. Che tipo di recupero c'è per queste persone? Diciamo che ritorniamo sempre a quelle famose tre fasi. È ovvio che se il paziente si trova in coma nelle fasi, diciamo così, eccitomotoria, il recupero successivo sarà molto più lento. Prima si sveglia e prima comunque si può iniziare a lavorare. Molto importante è che non ci siano i danni secondari all'immobilità, come le poa e le ritrazioni muscolotendine. Infatti in quella fase la riabilitazione dovrebbe essere proprio mirata a prevenire queste cose qua. Successivamente noi sempre partiamo da quello che ci troviamo. E tutto questo è importante perché chiaramente immagino che qui arrivano pazienti di diversa età con questo problema e questa patologia dell'ictus. Viene assistito e accompagnato nel percorso di recupero. È un recupero motorio, possiamo dire, quello la maggior parte che interessa la persona colpita da ictus. Cerchiamo di capire adesso che tipo di vita farà il paziente che ha subito un ictus e che chiaramente fa dei cicli di fisioterapia e quindi attenziona la sua vita, la sua persona. Allora, l'auspicio nel momento in cui arriva un paziente con ictus è quello di un reinserimento sociale. Diciamo che nella nostra casistica proprio personale i casi in cui c'è stato proprio un reintegro dal punto di vista lavorativo proprio perché il tipo di lavoro preesistente lo ha permesso ci sono stati. Nella maggior parte dei casi invece, soprattutto nelle donne, si vede una situazione in cui si vive proprio uno stato di malattia, cioè il paziente si sente malato e spesso è molto difficile svezzarlo dalla riabilitazione perché vede nella riabilitazione la possibilità di recupero. Per cui spesso noi siamo i cattivi della situazione e dobbiamo comunque dimetterli. Nella dimissione che cosa succede? Il paziente torna a casa avendo comunque da noi indicazioni su quello che deve fare. Al momento la cosa più simpatica che si sta sviluppando proprio nella nostra provincia è quella di frequentare anche delle palestre dove praticamente il personale delle palestre comincia a fare dei corsi non per una terapia ovviamente individuale però per avere comunque sia dei macchinari che possono essere fruibili per i nostri pazienti ictati e sia comunque degli esercizi che loro possono fare sotto la sorveglianza ovviamente del personale della palestra. E questo aiuta molto. Aiuta perché nel momento in cui rifaranno i cicli di mantenimento non abbiamo più quella situazione di ritorno a una grave espasticità però mantengono comunque una motricità residua per cui nel nostro lavoro successivamente non si dovrà ricominciare tutto da capo però si comincia da una situazione che noi abbiamo già lasciato quindi non troviamo quelle situazioni proprio peggiorate altrimenti che succede? Il paziente assume la forma della poltrona nel senso che il paziente è sedentario sta davanti al televisore, si rinchiude in casa, non esce per cui è ovvio che quando ci ritorna noi dobbiamo ricominciare tutto da capo. Allora, stiamo parlando quindi della riabilitazione lo stiamo facendo qui all'Anmi c'è una domanda che le faccio quanto la robotica permette a questi pazienti un recupero dell'arto superiore ma anche della motricità ma della persona? Allora, non abbiamo proprio dei numeri diciamo così standardizzati anche perché l'arto superiore, come dicevo prima ha dei meccanismi talmente particolari talmente sottili che non è facile comunque recuperarlo è ovvio che a secondo del tipo di lesione che si è avuta possiamo prevenire quelli che sono disturbi più importanti come la sindrome spalla-mano cioè il cosiddetto dolore grande dolore alla spalla nella motricità proprio fine ancora c'è da lavorare però il nostro obiettivo è quello proprio di non arrivare a quelle che sono le importanti retrazioni che si vedevano prima e fortunatamente questo anche grazie all'aiuto di tossina botulinica perché noi come centro comunque collaboriamo con gli ospedali che fanno praticamente la tossina botulinica nei momenti in cui vediamo che è una spasticità che può essere agevolata dalla tossina noi li inviamo non la facciamo noi però comunque li inviamo lì e con la tossina che comunque è reversibile non dà comunque gravi danni possiamo poi lavorare meglio è ovvio che se interveniamo sempre in quella fase degli otto mesi massimo un anno tante cose non saranno più viste e il recupero sarà migliore prima si interviene e prima comunque si avranno risultati Qual è la fascia d'età più colpita da ICTUS? Qui diciamo così nella nostra zona abbiamo una fascia che va dai 50 ai 65 anni abbiamo avuto anche casi di età pediatrica fortunatamente al momento se ne vedono meno però diciamo in questo periodo sono quelli cioè massimo 65 anni La ripresa e il recupero è più facile per l'uomo o per la donna o non ha valenza tutto questo? Allora c'è una valenza nel senso che si è visto che la donna proprio per il suo carattere psicologico tende a recuperare meno soprattutto se non ha un buon sostegno familiare o se è ospedalizzata tipo nelle case di cura lì il fattore prognostico è molto sfavorevole Quindi dobbiamo dire in effetti che questa è una patologia che va tenuta sotto controllo per il paziente che ha subito un ICTUS ma nello stesso tempo che ci deve essere la predisposizione del soggetto a farsi curare e quindi essere pronto ad ogni tipo di cura di terapia per recuperare in qualche modo la propria persona Sì, è importante la partecipazione Infatti c'è noi nella stesura di un progetto riabilitativo il nostro progetto è multidisciplinare e tiene conto del fabbisogno del paziente ma anche della famiglia perché, ripeto, la famiglia ha un ruolo importantissimo sia di sostegno e sia di sinergia e complementarietà alle terapie Il nostro team è multidisciplinare perché dal punto di vista medico c'è il geriatra, c'è il neurologo, c'è l'otorino Poi abbiamo la psicologa che comunque aiuta tantissimo alla partecipazione e l'assistente sociale L'assistente sociale perché ovviamente una volta che hanno eseguito la terapia finito comunque il tempo riabilitativo perché non si può tenere a vita c'è, diciamo così, il reinterno nell'ambiente familiare e dove è possibile anche lavorativo per cui, diciamo che l'assistente sociale lavora proprio in questo senso valuta laddove c'è la possibilità perché comunque i fattori predittivi lo danno sia di un reinserimento lavorativo che spesso purtroppo per la nostra città è un pochettino piccolo e sia anche dal punto di vista familiare e diciamo così perifamiliare quindi le amicizie Noi somministriamo l'ICF che è la classificazione del funzionamento e della disabilità e diciamo che da lì ci rendiamo conto anche di quello che era diciamo lo stile di vita prima perché è ovvio che un paziente o una paziente che da prima non usciva era comunque abituata a stare in casa successivamente per quanto possa avere volontà di recupero la sua vita era così per cui non ti accetterà mai di frequentare ad esempio dei centri diurni piuttosto che tutti questi centri sociali quindi noi l'assenza sociale su questo ci aiuta tanto Quando parliamo quindi di ICTUS parliamo di una disabilità che rimane e nello stesso tempo oltre che una disabilità di una patologia invalidante? Allora l'ICTUS è classificato al primo posto come le patologie disabilitanti però io dico sempre ai miei pazienti Dio ci ha creato con due braccia due gambe per cui il fatto che non funzioni una metà del nostro corpo abbiamo sempre l'altra metà per cui grazie all'intervento anche dei nostri terapisti come ad esempio la terapia occupazionale ci troviamo spesso che il paziente capisce questa situazione e la funzione che non fa più l'arto che non funziona viene vicariata dall'arto sano quindi abbiamo visto persone che riescono a mangiare a sbucciarsi le mele proprio perché hanno capito questa situazione mentre chi purtroppo vive questa condizione come disabilitante dal punto di vista psicologico lì non puoi lavorarci perché si sente malato già a priori ma chi partecipa a chi invece ha voglia comunque anche se non funziona quel lato possiamo aiutarlo a migliorare la funzionalità dall'altro lato grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.